Il problema fondamentale è che ci sarà un depauperamento dei servizi, ma c'è una nebbia, cioè non c'è trasparenza, non c'è chiarezza nei progetti che la regione, quindi l'AS, vogliono attuare sul nostro territorio. Per cui si inseguono questi progetti, si parla di casa della salute, si parla di ospedale di comunità, eccetera. Benissimo, è vero che il sindaco ha dei poteri di influenza politica, non certo gestionale all'interno di questo meccanismo. L'unico principio fondamentale che noi dobbiamo seguire è che noi dobbiamo, abbiamo diritto di avere una sanità di prossimità, cioè noi siamo circa 90.000 cittadini, fra noi e quelli che ci stanno attorno, che essendo cittadini italiani, cittadini dell'Emilia Romagna, dobbiamo avere un ospedale di prossimità e quindi dei servizi adeguati in un raggio chilometrico abbastanza fruibile dai nostri cittadini. Questo che sembra un principio banale, guardate, non lo è, perché stanno ancora litigando al loro interno per poter dire ai frentini potete andare a Imolo, potete andare a Folì invece di andare a Ravenna, perché anche al loro interno l'organizzazione chiaramente non ha ancora preso possesso completamente dei vari feudi e delle varie situazioni. Quindi concludendo il compito della nostra amministrazione futura sarà quella di avere chiarezza dalla regione, dall'ASA e quindi verso tutti i cittadini su qual è il progetto di sanità che ci viene proposto. Il secondo punto è che difenderemo la sanità di prossimità, che sia dentro l'ospedale, l'ospedale di comunità, la casa della salute. Non ha importanza allo stermino e al marchio, l'importante siamo noi. Area vasta cosa serve? Serve praticamente per risparmiare i costi di gestione degli ospedali, ma nessuno ha mai parlato di tagliare un dirigente, non ho mai sentito parlare di tagliare un dirigente. Quindi praticamente è la nostra cosa serve? Serve soltanto per creare dei disagi al cittadino, perché non so se voi l'avete visto, vi auguro di no, vi auguro di non andare nel nostro ospedale, ma però io li ho visti anche stamattina a Cero, c'era della gente di Cervia che stava cercando dove era l'ospedale di Faenza, poi deve parcheggiare, non trova il parcheggio, fra un po' gli metteranno le sbarre e quindi troverà ancora più difficoltà, non trova il reparto perché non lo corre, insomma crea dei disagi. Una signora di 81 anni da Marradi deve andare a fare un esame a Ravenna, immaginatevi capito qual è il disastro per la famiglia che la deve portare. Quindi noi vediamo, noi vediamo, ovviamente chiaro, poi fanno area vasta per risparmiare i soldi per l'ospedale, però devono costruire un altro ospedale che è un parcheggio da metterci la gente una volta per l'altra. Per me è totalmente assurdo, proprio impensato, risparmiamo, tagliamo, ma abbiamo un altro ospedale dove ci metteremo? Ci metteremo i nostri parcheggiati politici e quindi vedrete da me, almeno da me e dal mio gruppo, la totale indisponenza a quest'idea. Grazie a tutti. Io a differenza di chi mi ha preceduto sono del tutto favorevole alla realizzazione di un ospedale di comunità. Innanzitutto non ci sono le idee chiare su che cosa stiamo parlando. Casa della Salute è una struttura ben diversa, stiamo parlando di una struttura che eroga una pluralità di servizi, dai prelievi, da visite specialistiche al centro unico per notazioni. La palazzina 13, c'è chi ha detto che viene chiusa e trasferita, non è assolutamente vero, vengono decentrate alcune attività lasciando nel perimetro ospedaliero altre funzioni fondamentali. L'ospedale di comunità è una struttura che deve dare una risposta a tutti quei pazienti che una volta usciti dall'ospedale non sono pronti per essere assistiti a casa o per andare a casa con la loro autonomia funzionale e quindi è finalizzata ad assicurare dimissioni protette, recupero funzionale, cura della cronicità. Oggi stiamo andando in una direzione in cui nell'ospedale si fornisce la cura della fase acuta perché, non so se lo sapete, ma ogni giorno di direzione ospedaliera costa all'amministrazione pubblica dai 400 ai 700 euro al giorno perché l'intensità delle prestazioni assistenziali è particolarmente elevata, cosa diversa in una struttura come l'ospedale di comunità che non verrebbe costruito, non stiamo parlando di muri, di pareti da realizzare. L'idea è quella di realizzarlo al quarto piano del fontanone che oggi è del tutto libero, resterebbe soltanto da attrezzarlo, dovrebbe essere conferito in convenzione, può essere le stesse opere pie, l'ASPA a gestirlo, in convenzione con i medici di medicina generale, mentre l'ASPA dovrebbe metterci il personale infermieristico. Come la realizzazione dell'azienda unica sanitaria della Romagna apre delle grandi possibilità perché concentrando i servizi si aprono degli spazi in questo senso.